Salve a tutti, grazie, benvenuti, ben tornati con un nuovissimo video di Minecraft, perché mi state abbandonando tutti amici miei? Perché hai detto che mi vogliono vicini e noi andiamo lontani. Sì, io ho paura. Ma volevi i miei amici che ho vicini a me? Allora mi spiace. Giochiamo insieme alle Custom Sky Wars. Siete pronti? Yeah, però siamo addostanti nelle Sky Wars almeno, vero? È ovvio, più dobbiamo unirci e combattere. Vai, metto che sono pronto. Ma ti posso targettare? No, la prima targettina, poi me, ok? No, vabbè, è ovvio. Per vincere servono tre win totali. Siete pronti? Ok. Ok, vai. Sono pronto, capitano. Quando desideri. Non vedo nulla. 20 secondi. Oddio. Va che bello. Oddio. Questa mappa mi piace, secondo me. Guardate la mia cage come bellina. Perché non mi vedo la mano? Guardate la mia cage. È bello, bellissima. È un funghetto, sì, è molto carino. Abbiamo anche noi, poi non l'ho messa. Dopo la metto la mia cage personalizzata. Ma io ho un funghetto. Sì, 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 50 euro. Iniziamo. Allora, Next Explosion. Uuu, guarda quante cose, c'è un tridente qua. Cosa vuol dire Next Explosion? Eh, ci sono delle cose che esplodono, ti avviso, non lo so io come funzioni tutto. Ma, cosa c'è di custom? È tutto, ci sono delle termine personalizzate. Ma mi sta arrivando un supply drop con dei polli a me. Ma tu le sai queste cose? Te le sei preparate? Ah no, le preparo io. Ascolta, io faccio queste cose. Ma c'è solo una cesta. Ragazzi, guardate la mia isola. C'è un'altra cesta. È proibito col pilastro. Nico, posso fare un esperimento? Secondo me sarebbe molto utile. Nico? Magari è privato prima del primo minuto, no? Ah, evitiamo di colpire. Eh, evitiamo di colpire. Perché mi è stato un esperimento? No, sì, sì, è esplosa. Oh, guarda quante cose, c'è il C4! Oddio, ma c'è un paracadute. Con dei polli. Aspetta, Nico, vi puro una cosa. È un supply drop, è fortissimo. Ma non fateglielo prendere. Ma ragazzi, io non è che so la cavia su cui testate tutte le vostre cose. Ah, ho preso il C4! Ok. Il C4 sempre funziona? Ero la mia arma preferita su Fortnite. C'è anche il totem. Ok, la molotov. Con la molotov. Beh, io non ce l'ho tutte queste cose strane. Perché è un caduto. Oh la molotov. Eh, sono occupato. Io sono caduto. Allora. Io sono occupato di un po' di cose. C'è un villaggia. Voi un villaggia? Io sono caduto. Io sono caduto. Oh, signore! Non mi avete piaciuta questa, è Nico? Eh, insomma. Io dico, ho 18 cuori, ho 17. Ah, eh, vabbè. Ma questa è la palestra spaccata il terreno. E fortissimo con la palestra voglio, lo voglio anch'io. Io dico, ho 13 cuori, 12, pusciano. Ma questo è il cavolo di voi. 11, 5, 4. Ucciso, ha morto. Sì! Ha vinto l'ho morto. Ti ho ucciso con la maestra, Pira. Ma non ha capito niente. Ma che azioni vittorie incredibili. Ma io voglio aspettare l'esplosione. E win, no, delocco. Ma sono fortissimo, stai zitto. Tutto bene? Ciao, amici. Che mappa vogliamo? Che mappa? Non ci c'è la mappa. L'abbiamo appena fatta questa. Come faccio a prenderli con Smeticis? Andiamo a mettere con Smeticis. No, l'Oreo. Mettilo, mettilo, l'Oreo. Ma che bello questo. Insomma, questi Oreo sono discutibilmente belli, eh. Sono un po' scuri. Discutibilmente belli. No, un po'... Guardi lì la mappa cage. Ma che hai visto la mappa cage? Che bella che è. Non vedo nulla, però. È bruttissima. È proprio brutta brutta. È proprio paschivo. Dopo metto anche il fungo, va bene. No. La mia vi piace. Ma schifo sta cosa. Voglio una mappa cage docente, dai. Sì, ma non mi copi il fungo, scusa. Non mi copio nulla. Io sono originale, io. Mi raccomando. Ah, io. Guarda. Mi stai venendo a copiare tu lo scudo. No, lo scudo. Scusami il coso. Perché ho proprio uno scudo. Non sono mica tu e sono in generali. C'è una... Zap con sharpness 8. O come poi la merce alla sharpness? Tua mamma. Ma che mia mamma cosa ha fatto mia madre? È perché non vuole approvare la mia. Una minata. Wow. Mettitala su tutti i piedi. Vediamo che succede se... Ho muto Q. Da vicino non funziona. Vedo che funziona. Avevo detto una mina. Ho trovato qualcosa di strano. Funziona così, loco. Guardati dietro lì. Non ho mancato. Ha supply drop. Guardate questo qua c'è quanto. Supple drop. È mancato. Ah. Aiuto. Supple drop. Di questo. Fatti bravi eh. Mi sono messo uccidendo questo. Oh ecco. Ecco la mia. Dove. Supple drop. Andi quasi bravi. Ma c'è tutto purtroppo è vero. Supple drop. Spade in diamante. Oh ma che fa questo? Uccido. Uccido ovviamente. Aiuto. Hai me tutto. Oh che bella. Questa è un'asciotto tutti. Come ho lasciato tutti. Come fa con ciò? Hai ucciso tutti i polli. Ho ucciso tutti i polli. Vabbè. Ma perché qua c'è la diretta con sei soffro? Oh una inizone è bella questa. Nico vuoi un po' di champush? No ma qualcuno da frecce? Eh qualcuno per la scelta. È esploso. Loco di A? No. Sì. Eh no devi cliccare poi. Caspi. Poi prendi questa mina per favore. Certo. Ok allora la prendo. Grazie ma prenda mina. Mi piace il mio scu... Oh ma chi è matto questo aiuto? Guardatemi guardatemi. Oh scusate ho capito nulla. C'è successo? Non ti vedo dovrei essere diventato un ninja. Eh forse per questo non ti vediamo. Ho un po' l'aspetto da ninja. No secondo me no. Beh è bella sta faccia Nico. Aspetta magari questo è più forte. Ma ci cosa vengo uccidio a te che mi sei antipatico? Ma come ho fatto prima il mio atto? Veramente? Vieni qua. Ah aveva il totem. Ti ho rubato l'ammatura. Ma veramente? No. Ho rubato l'ammatura. Come hai fatto? Mi ho rubato l'ammatura. No c'avevo io. C'aveva lui. Ah. Dai un troller. Aveva il totem tutto infame. Ma è esploso. Ah ma non era una pozione quella. È un pirla. Dove è francicoso? Avete le paticelle francicoso lo sa? Come lo vedi? Eh vedi le paticelle. Eh a tua destra. Nico a tua destra. Eh ma tu ti non lo vedi. E tu ti non lo vedi. Aiuto il nitrito. Ma come fa? Uccidilo a forza. Nitrito è morto. 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 Stai saltando come non so cosa. Non l'ho visto. Io ho visto una capretta. Attenzione faccio coso con tu Nico. Faccio coso invisibile. Esplosione. Diamo uno a uno. Volevo l'esplosione. Eh. Boom. È venuto da mappa. Belle. Belle. Io vi giuro adesso un traiardo. Mi piace mia cage. Perché è verde? Come si chiamava la tua cage? Green cage. È verde effettivamente. Mi piace? Quella di francia è bella. Grazie. Non hai gusto. Scusa tu è sempre la stessa. Almeno io cambio. Io vario almeno. Perché la mia è bellissima. Ho una chi per reddito adesso. L'era di primo sei. Mettila in testa. No. Quella sei tu. Eh. Ex. Oh. È un criminale. Cos'è successo? Cos'è successo? Mi è esplosa la cesta? Non lo so. Perché? Eh. Non è giusto. È giusto. Non è giusto. Ma di che è morto. Devi farti una vita. Ma di che è morto. Abbiamo detto che non ci si uccide nel primo minuto. Non l'hai rispettato. Non è giusto. Bella questa amina francese. Secondo te la prendo io? Non è giusto. La evitata. Francio uccidio per favore. Non si mette inizio. Lasciami. 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 Ti prego. Cucione. Eh. Dai. Non salta. Ma è matto. Stai cercando di servire sulla leva ma ha dei problemi. Ma veramente? Ora è sopra. Ti sta per attaccare dal lato. Che becchetto ninja. Oddio. Che ritake. Non è successo. Dai. Ma che da. Non fanno esplodere. Addio. Ci vediamo. A mezzo cuore. A mezzo cuore. Come fa? È morto. Ma. Ma. Totem of the void. Ma come fa a essere in creativa? Il totem of the void. Poi di questo. Non ci credo. Non ci credo. Che faccia questa. A quanto un muro. Attento. Contrasso con una scala. Aspetta faccio. Fai di questo. Che vuoi prendere? Sto arrivando. No mi puoi aspettare che devo mangiare? Eh no mi spiace. La tua vita è finita. Proprio. Vedi la mia palla di fuoco. Ma Nico è in creativa. No. Sto volando qua. Ma ti ho visto. Eh no. Non spavano la mia palla di fuoco. Non tutte sono palle di fuoco che spavano la palla di fuoco. No io davvero. Assembleità. Assembleità. Eh. No. È morto. Nico. Ho vinto. Cosa? Ho vinto. Ragazzi io l'altro lavoro con mia mamma. Cosa è successo? Eh in pratica ti ha detto di comprare i panini. No Nico ti ho visto che mi ha rotto il pavimento su te piedi. Infame. Mi ha rotto la mia mamma. Io sto parlando con un Frank. Nico ce li diamo contro Franci? No no no. Perché no? No no. Perché non sia lui con le persone scarse. Diglielo. Io scarso? No no no. Oh scarto dai. Non dite che so. Vabbè dai scusa. È vero che non ci buttiamo giù nel vuoto quando stiamo facendo i punti? No no. Ma ti sembra? Tu prima l'hai fatto. Non l'ho fatto. Stavo lottando una cesta e mi hai lanciato qualcosa di esplosivo. Ma non era un ponte. Non hai resi un ponte dai. A me non interessa cosa tu stia dotticendo. Potresti un attimo fare il silenzio che mi sto concentrando ragazzi. Un attimo. Devo andare al centro. Che prendo tutte cose più al centro. Ma veramente? Come l'hai scoperto? Tu sei soltanto un Casio. Un Rolex. Dove sei? Ma perché stai cantando la canzone di Shakira? Vieni beccati questo. Cosa dove? È proprio una Twingo. Grazie Nico. E tu tantissime cose. Guarda te sono una Ferrari. E tu sei una Twingo. Ma perché mi devi risultare? Ma c'è cosa? Dove ci fai lì sopra? E ti ho tornato perché non è mai arrivata. Arriva. Uh c'è una mini esplosiva. Prendi questo. La mettiamo qua. Perfetto. Adesso saliamo. Adesso metto tutte le esplosioni. Perché sta facendo cose? Luca. Magicoso. Ma chi esplode? Ma che è successo? Loco? Come stai? Qua ci sono delle persone cattive. Possiamo vedere cosa sono le esplosioni? Possiamo rimanere in vita fino a quando ci sono delle esplosioni? Dai ma non rimanere. Ho una Blitz Padre con Faraspect 5. Vuoi provare Nico? No. Come no? Dai è bella. Cioè è molto bella. Ti prego. No. E poi dobbiamo mettere. E io faccio così. Ah! Non ho capito niente no. Ti franci cosa un po' di me? No. Ciao Franco. Dai? Ma ci è dico qua. No no no. Che sta sta a fare esplodere? Oh è matto. È matto è pazzo? È matto è matto. Cioè tu dici capisci qualcosa? No no. Scappa 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 scappa. Scappa! Quest'isola è sorretta da delle stringhe. Davvero? Tua sorella è caduto! È morta dalla mia mina! Godo Nico Godo! Ma la te l'avevo tirata io. No l'ho messa io la mina infame. No l'ho messa io. L'ho messa io la mina. dall'isola centrale. Vivamente? Vivamente? Avete tipo dieci secondi. Io me ne ho fatto via per sempre. Non voglio neanche più saperne niente. Guarda. Tre, due, uno. Eh scusate. Tre, due, uno. Infame! Non c'è nessuno all'isola centrale. Vabbè ragazzi vi consiglio di lontanarmi il più veloce. Sei morto francicoso! L'esplosione! Vabbè ma ragazzi io voglio vedere cosa fa l'esplosione. Eh no che non si diverte con noi. Allora adesso sto arrivando come lo schifo. Ultimo game. Aspettiamo l'esplosione e poi combattiamo va bene? No adesso ti ammazzo appena start al game. Aspetta anche io. Cioè io sto cercando di fare sempre temporeggio. La ciambella, la ciambella, la ciambella, la ciambella, la mappa. Io temporeggio sempre. E lui cosa fa? No, lui dice no, non lo faccio. Va bene, va bene, è chiaro. Vero che siamo tutti amici qua. Ma guarda tu non hai capito proprio niente. Volevo gli ultimi ci si è messo a trollare tutto il game. Siamo amicissimi, vabbè. Cioè volevo vedere cosa potrebbe essere l'esplosione. No l'esplosione non me la fa vedere. Volevo vedere quella me la fa vedere. Ragazzi c'è troppo troppo bene, c'è se stai impazzendo. Io non ho capito una parola di quello che ho detto. Troppa roba, c'è se stai impazzendo. Ehi vabbè, ehi. Di come i god. Ma cosa mi stai impazzendo? Fatti questo! Franci scusa un attimo, adesso fai tu se sei vicino a me. Un attimo impegnato. Bellissimo questo pistone. Vediamo che pozioni. Perché ho tro... Franci cosa? Scusa, non lo faccio più dai. Guarda, guarda, guarda questo. Va bene Franci cosa. Cosa? Guarda questo. Ma cosa ci faccio con un cristal? Non posso piazzarlo. Ma sei un abissimo. Ma perché si scaso Nico dai, a me. Permettila a dire la tua scarsaggine. La tua scarsaggine. L'explosiva. Tutto bene? Non ho problemi, non exclusive. Francioso, vuoi provare la mia exclusive arrow? Arrow? Arrow è exclusivo, Franci questo. Perché non era exclusivo. Ma se già sparò, con l'ex exclusive arrow, cosa si dice? Perché mi stai insultando? Ragazzi mi sa che il mio totem, no, il mio. Dove è lì, dico? Sono caduto dentro una ciambella. Ripirla. Franci, ferma, ti vedi che ho provare la exclusive arrow. Ma schifo se sei così arrow. Ti m'è sto! Uh, che mossa! Che mossa incredibile, è emozionante. Un attimo che i gravi pantaloni, ecco. Ahia. Ultima, ho l'ultima! Oh. No, non so se sto io. Che infame, che infame! È stato l'olfato. Fato? Ho scelto l'olfato perché il bene era banale. Ma non faceva così. Un supply drop! Dai, l'ho chiamato io, è mio. Arrivo, sto arrivando! Ciao! Non lo avete! Non lo spodini di rite! Non mi serve. Vedi questo! No, dai, non si fa! Eh! Mi hanno detto... Eh! Ma non avete nulla. Eh! Oh, quanto qua, quante cose qua! Vai vedere l'esplosione! Ah, no, 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 no! La vedi l'esplosione? La vedi l'esplosione? Lasciami stare! Mi hai chiamato Nicolò? Nicolò! Vieni qua. Ho chiesto Nicolò. Non mi interessa. Peggio, peggio ancora. Peggio mi fanno. Io quel pistone, ti avviso! Vabbè, vediamo chi c'ha il pistone più forte. Nico, Nico, Nico! Più fortnite! Ah! Ragazzi, potete venire un attimo che c'è un esperimento da fare? No, no. Ma dove c'è un bello io? Ma dove siete andati? È sotto la ciambella. Forza, prendimi! Col pistone, prendimi, forza! Nico, posso fare un esperimento? Su di lui, guarda lì dentro. Su di lui, vado? Vai, vai. Ah, no, 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 no! Bell'esperimento. L'ha fatto letteralmente a niente. Punizione. Next explosion. E' tranquillo, perché sono ancora qui. BOMARANDO! Ah, ecco l'esperimento. Eh, ma sei creativa! Ah, no, eh. Non sono creativa, ho la perla del void. E' Francia in creativa. Ho capito l'esperimento. Come Francia in creativa? E non sono in creativa. Avevo il totem dell'undying. Ah, tutti ce l'hanno in quello dell'undying. Quello del void. Ah, lo so, tutti ce l'hanno, eh. Oddio, stiamo andando. Fabbè. È in creativa, visto? Potresti non spararmi, visto che ho pochissima life. Ah, la life. Io non ho capito. Mi dà un po' di cibo, per favore. Voglio un'altra esplosione, la possiamo richiedere. Ma vi avete visto che è davanti alla balestra? Sì, molto bella. Anche a me è piaciuta. Occhie che mi spara, loco, tu sono criminale. Loco. Ma di questo! Muori, Franci! Potresti un attimo a non farmi... Devi morire, Francioso! Beh, però così mi sembra esagerato. Aspetta, giustissimo. Sto arrivando, sto arrivando! Loco, non so che io sono qui. Vabbè, loco, per favore. Ah, ci ti uccido adesso, non mi interessa. Oh, no, 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 no! E che vuoi fare, tu? Ah! Perché urla? Perché urla? È matto? È matto? Sì, sì, è impazzito. Ha visto una cosa. Fornite? Mr. Fortnite. Ah, Nico, come stai? Tutto bene, tu? Benissimo! Dai, non sei morto. Ciao! Ma cosa vuoi? No, scusa, non voglio niente. Deveva aver rubato qualcuno, forse. Oh. No. Attacco! Loco, ma tu sei matto? Ma il miele non fa rigi... Cosa vuoi tu? Scusa. Posso dare il fuoco? Basta! Basta! Questo è troppo! Affrontami, Francioso! Affrontami davvero, uomo! Dai, Raspett, contro un Horkback! Forza! Ecco, Loco, non si fanno certe cose. Ma, ragazzi, ma, ragazzi! È stato bellissimo! Ma, cosa è più bella che mi ho visto in Italia? Ah, ma non era la mia balestra, l'esplosione, forse. Ma, 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 davvero! Ma sei troppo dirigente, Franci! Tu pensavi che tua balestra avessi fatto quello! Eh, sì, in realtà. C'è scritto Explosion 10. Pirla. Io vi ho riportati su Minecraft. Ragazzi, è un pareggio! Franci, Loco, al primo posto, Nico, ultimo posto! Se il tuo video vi sia piaciuto, ci ti dà domande con noi su un video, ragazzi, sui piacereci stati? Mi dico, mi ha bannato! Ciao a tutti! Ho chiuso il server. Anche a me.